Mi sono segnato questa sigla, non ricordo la tonalità, proviamo col si bemolle, di così al si bemolle, vediamo, vediamo, vediamo come viene. I posti di blocco, tante preoccupazioni, la pandemia è finita, la quarantena, lo smart working e la sua eleganza, fai ciò che vuoi guardando sempre Netflix, Certo che l'ozio favorisce l'arte, ma un mese ancora non è male mica, ringrazio il cane e la sua incontinenza, due passi me li faccio pure sempre, fortunato un poco io. Può andare. Salve a tutti, oggi si va di Toscano, oserei dire con orgoglio e ignoranza, in particolare con un toscano di recente uscita, ossia il Puccini, Puccini è il primo autore della bohème, l'opera lirica, vissuto a cavallo tra 800 e 900, e tra l'altro nato a Lucca, storico luogo del sigaro toscano, e è gli stesso amante dei toscani, quindi insomma era solo questione di tempo prima che gli dedicassero un sigaro. Prodotto che si va ad inserire nella gamma dei sigari d'autore, quella per intenderci che di base comprendono il Garibaldi, il Modigliani e il Soldati, prezzo di 7,50€, quindi la scatola da 5 sigari, alla fine va della media di 1,50€ a sigaro. Prima considerazione, purtroppo si presenta male con questa scatola, perché se vediamo il ritratto, oserei dire, fumettistico di Puccini, non è che sia granché, così come la dicitura qua che non si vede sul retro della scatola, l'ardente armonia del maestro di Lucca, che insomma fa tanto brutta imitazione di D'Annunzio, e lascia un po' perplessi. Per quanto riguarda invece il sigaro, non si presenta invece male. è un fatto a macchina con una fascia, diciamo, color nocciola, che in fondo è anche abbastanza invitante, il problema vero è questa fascetta che segue, insomma, i parametri della scatola, con questo tricolore e questo ritratto a fumetto di Puccini, che proprio non l'ho digerito, vabbè, ma questo è mio fatto personale. La fascia è costituita da tabacco della Valtiberina, tabacco Kentucky della Valtiberina, affinato quanto basta per addolcire le sue asperità, e il ripieno invece è costituito da Kentucky italiano e nordamericano. Quando lo scartate dal cellophane, gli odori sono abbastanza buoni, classici sentori di cuoio, stallatico, ci sento anche dei legni freschi, oserei dire, e una volta acceso parte bene ed è particolarmente, ecco, rotondo lo trovo, c'è questo sapore marcatamente fruttato, anche un po' legnoso, che vi accarezza il palato, il tutto è controbilanciato da una nota amarognola, che rimane costante durante tutta la fumata, rimane lì, non è mai troppo marcata, però dà un certo equilibrio a tutto. Ecco, se mi viene da fare un parallelo con un altro toscano, mi viene immediatamente in mente il Modigliani. Anche il Modigliani è caratterizzato da sentori fruttati, però questo ha la sua identità, diciamo, simile nel genere, ma non nell'anima. La forza è media, diciamo, si attesta tra due e tre punti su cinque, quindi è un sigaro che potete godervi in qualsiasi momento della giornata. Ecco, semmai ha un difetto e che non si evolve troppo, ecco, rimane un po', un po' costante, però, insomma, non mi dà fastidio, almeno a me personalmente, e la fumata, in fondo, è gradevole, gli darei, insomma, un sei e mezzo, anche perché, diciamo, altre edizioni limitate della Toscano mi avevano lasciato un po' perplesso, il Mazzini, gli avevo dato la sufficienza, però, insomma, mi aveva lasciato un po' il perdetto, il Maremmano mi aveva fatto severamente cagare. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi, e vi auguro buone fumate casalinghe in queste giornate, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!